A metà settembre gli uffici giudiziari torneranno nel palazzo di giustizia di via 20 settembre. Terminato il primo lotto dei lavori, si è in attesa del completamento di altre infrastrutture primarie, come all'acce e riscaldamento. Stavano è nella Corte d'Appello un incontro per fare il punto dello stato dei lavori. Volevo anche precisare che la previsione metà a fine settembre è sempre che queste infrastrutture logistiche vengano realizzate. Lo scopo di queste riunioni è sollecitare tutti gli uffici e le amministrazioni competenti a fare il presto più possibile per poter rispettare questa scadenza. Se non ci sarà luce, non ci sarà riscaldamento, sarà difficile. Comunque stiamo lavorando perché queste date vengano rispettate. Presente anche il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. I lavori di recupero sono stati relativamente veloci, con risultati molto significativi, avremo uffici più efficienti, più moderni. Certo c'è ancora un ulteriore passo da fare, l'altro lotto da completare, ma non c'è dubbio che i cittadini aquilani dell'Abruzzo trarranno beneficio da questa importante realizzazione. La mancanza di personale amministrativo è un problema cronico in Italia? È un problema italiano che il Governo sta affrontando, non ci siamo ancora quanto alla soddisfazione di tutte le necessità, ma la strada intrapresa è quella buona.